Oggi vorrei concentrarmi su Pannella e se posso aggiungere qualche argomento agli interessantissimi sviluppi concettuali di Fortuna, di Cinque Mani, di Strickliver e a prima di Andrea Delcorno, vorrei fare con voi qualche riflessione sullo scenario europeo, proprio mutuandolo dal grande disegno attualizzato dalla testimonianza vissuta di Marco Pannella che oggi ricordiamo. Io ho fatto due mandate al Parlamento europeo, dal 2004 al 2009 e dal 2009 l'ultimo non l'ho completato perché nel 2013 sono stato eletto al Senato, però nel secondo mandato, quello che non ho completato, sono stato eletto Presidente della Commissione Affari Esteri del Parlamento europeo, proprio con l'inizio dell'implementazione del Trattato di Lisbona e per la prima volta nella storia europea c'era una funzione istituzionale che entrava in campo ed era quella dell'alto rappresentante nonché Vice Presidente della Commissione, una sorta di Ministro degli Esteri che era la Baronessa Aston con la quale avevo rapporti ovviamente molto contigui e mi ricordo un episodio in un'audizione alla Commissione Esteri che rende bene l'idea dello scenario sugli Stati Uniti d'Europa costituenti e le difficoltà che può incontrare. Un deputato britannico conservatore, lei apperteneva all'area laborista, le fece questa domanda e dice ma Baronessa Aston, lei ricorda che cosa diceva Kissinger quando veniva criticato per il fatto che gli Stati Uniti d'America pur diciamo in una visione atlantica ignorassero la posizione dell'Unione Europea e lui rispondeva molto platealmente dice ma io vorrei poter interloquire con un mio collega europeo ma non c'è, non c'è neanche un centralino, un numero di telefono a cui posso riferirmi. Dice ma adesso c'è questo centralino e lei il Ministro degli Esteri europeo lei rispose in questo modo, dice sì effettivamente il ruolo che mi viene affidato sia pure con le criticità del fatto che non siamo uno Stato né federale né confederale è quello della rappresentanza estera dell'Unione laddove è possibile e c'è anche un numero di telefono a cui il segretario di Stato americano in carica può riferirsi se vuole parlare con me. Ma questo telefono quando non ha, cioè se viene chiamato in orari non di ufficio inserisce una segreteria telefonica che così dice questo è il numero di telefono dell'altro rappresentante eccetera eccetera. Se volete la posizione britannica il numero uno, la posizione tedesca il numero due, la posizione francese il numero tre e così via per 27 Stati. Allora questa battuta che come tutte diciamo le battute spesso più dei dei concetti ampi o delle e degli elaborati di dottrina poricare sintetizza un un quid critico è una realtà e poco fa nella disanima che aveva fatto ha fatto l'ottimo eh cinque palmi ehm c'è qualcosa di molto vero nel fatto che gli stati eh membri sono essi stessi l'ostacolo a quella cessione di sovranità inevitabile e necessaria per la costituzione di uno Stato federale perché è quello che avviene in tutti gli Stati federali su alcune tematiche Cattaneo è stato citato diceva lo Stato federale è la cosa migliore dei grandi paesi e dei piccoli villaggi cioè su alcuni scenari il territorio la localizzazione del governo del potere della rappresentanza funziona meglio di quella collettiva ma per le grandi tematiche quelle appunto della politica estera o della difesa comune è lo Stato nazione il grande Stato quello confederale che può competere con le altre superpotenze in campo quindi questa è un'obiettiva criticità e aggiungo sempre riferendomi all'intervento di Cinque Palmi che eh non credo che siano solo poteri economici che diciamo si eh frappongono tra questo grande disegno questa visione e la realizzazione del medesimo sono anche poteri politici nel senso che le leadership degli stati nazionali fanno leva su tutti gli argomenti sovranisti appunto che oggi sono particolarmente efficaci per tante ragioni che adesso non 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 sviluppiamo analiticamente e e e proprio su questo trago uno spunto per contraddire quando Salvini o la Meloni o altri eh se la prendono con l'Europa perché non sostiene adeguatamente le nostre criticità eh in realtà dovrebbero prendere con gli stati nazionali perché eh quando eh l'Unione Europea o il Parlamento si sono espressi hanno detto in realtà che i fondi e l'Europa nel suo complesso doveva sostenere questo per l'immigrazione e ora per la pandemia gli stati più deboli o quelli che avevano avuto come nel nostro caso gli interventi del destino o delle criticità di varia natura ehm causate da varie e da varie e vari eventi e sono vittime più pesanti di queste di queste condizioni e sono invece gli stati membri che si sono opposti allora concludo con una proposta che è questa parto da due motti eh il motto degli stati uniti quello che è scritto anche sul dollaro è e pluribus unum quello dell'Unione Europea più modestamente che è stato tradotto in latino ma ha avuto una genesi nazionale nel senso che sono stati fatti dei sondaggi sui cittadini europei insomma morale unità nella diversità che in latino nobilitando in varietate concordia è qualcosa di diverso delle pluribus unum ma è un passo avanti cioè ancora la formazione di uno stato federale propriamente detto è un disegno fin troppo lontano dalla nostra capacità attuativa ma almeno la concordia in diversità ma la concordia è un prodromo dello stato federale cominciamo eh eh ottimo Nicola eh fortuna sulla sulla parte funzionale per poi arrivare alla alla al disegno federale e qui per poter realizzare questo scenario di cessione di sovranità da parte del dei singoli stati membri con le criticità politiche che abbiamo a cui abbiamo accennato e che possiamo anche ben capire occorre che l'unica istituzione delle tre del trilogo trilogo parola eteroclita ma sapete cos'è cioè le decisioni vengono presi in Europa con l'apporto di tre istituzioni di tre organismi il consiglio che è quello più potente che è composto dal dagli stati membri rappresentati come tali la commissione che è una sorta di governo europeo dove però ci sono le espressioni degli stati membri cioè ogni stato ha il suo commissario a seconda della della importanza dello stato si occupa di spazi più ampi di delega o piuttosto più ridotti l'unico che è il più debole è quello che col trattato di lisbona ha avuto un certo spazio ma è assolutamente insufficiente guarda un po' è l'unico eletto direttamente dai cittadini europei è il parlamento europeo allora per arrivare allo scopo con il percorso a zigzag che ipotizzava lenin ma a me piace di più quello dei gesuiti rigido nei principi e d'utile nei comportamenti bisogna dare potere all'unica istituzione europea il parlamento europeo eletto direttamente dai cittadini europei e quindi se mi permettete il mio suggerimento è che in questo seminario in altri che faremo insomma se riusciamo ad animare un movimento di opinione per dare più potere e spazio a questo organismo e attraverso questa delega all'unico organismo eletto direttamente ai cittadini cercare di attenuare il sovranismo degli stati e avviarci verso l'unico destino che può assegnarci un futuro di benessere di concordia appunto e di serenità tra tutti grazie per la vostra attenzione e ormai alle 20 penso che siamo ai saluti finali siamo anche in diretta radio e signor sindaco grazie 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 grazie